Fanno parte delle nostre ultimissime incisioni. La prima si chiama Donne Italiane ed è una canzone che ho presentato e registrato, presentato in Rai naturalmente e in tutte le tv private perché sta facendo veramente il giro di tutta Italia. Questa canzone l'ho cantata insieme ad altre colleghe come la grande, la regina della canzone Nilla Pizzi, Annalisa Simeoni ed altre mie colleghe ed è una canzone che veramente sta riscuotendo moltissimo successo e mi auguro che questa sera, possiamo dire, è la prima sera che siamo qua noi ed è quindi anche la prima sera che vi presentiamo questa canzone, piaccia anche qui alla Cadelliscio. Poi naturalmente aspetto il parere del pubblico perché è molto importante, anzi è importantissimo, dedicata a tutte le donne presenti e soprattutto a tutte le donne italiane, questa canzone Donne Italiane per voi. Ma che fortuna, sono nata in Italia, nel sole io crescerò, quattordici anni, l'età delle vele, è il primo amore che avrò. Quando hai vent'anni, ti siedi sul mondo, pensi che tuo sarà, trenta e sei mamma, difficile impegno, ma con il cuore si fa. Le maddalene, pentite son poche, tempo per farlo non c'è, quanta fatica, a fare fatica, resta ben poco per te. Quanti peccati e sogni sbagliati, si tira avanti e si va, ma in tutto il mondo ci invidiano in fondo per la bellezza e bontà. Sì siamo noi, donne italiane, come tu vuoi, sante o mondane. Sì siamo noi, donne italiane, gli uomini stian tranquilli, siamo la loro feda. Casa e famiglia, ma si fa per dire, qualche peccato ci sta. Ma cosa importa, si può perdonare, se con il cuore si fa. Sì siamo noi, donne italiane, come tu vuoi, sante o mondane. Sì siamo noi, donne italiane, gli uomini stian tranquilli, siamo la loro feda. Sì siamo noi, donne italiane, come tu vuoi, sante o mondane. Gli uomini stian tranquilli, siamo la loro feda. Gli uomini stian tranquilli, siamo la loro feda. Donne italiane, dalla voce di una grande donna, una grande cantante italiana, Brunella. Donne italiane. Grazie. No, no, però è importante, io voglio sapere, vi piace questa canzone? Non ho mica sentito bene? Oh, beh, no, è molto importante, perché io abito qui vicinissima. E sapere che il pubblico, si può dire, di casa mia apprezza questa canzone, mi fa veramente, anzi, doppiamente piacere. Un'ultima canzone, una canzone, anche questa, le nostre prossime incisioni saranno pronte fra pochissimi giorni. Dopodiché apriremo la carellata di grandi, di grandi, questa sera veramente abbiamo la crema delle orchestre italiane. Una canzone un po' particolare, spendo una parola velocissima, anzi due, scusatemi. Questa è una canzone molto particolare, un testo particolare da capire. È una canzone molto importante per me, a cui tengo moltissimo, soprattutto perché l'abbiamo scritta noi, anzi, l'ha scritta il maestro Carlo Mioli. Un bel applauso. E naturalmente è anche arrangiatore dell'orchestra. È intitolata L'Uomo Mio, per tutti voi. Spero che vi piaccia anche questa, naturalmente. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Ma questo è l'uomo, l'uomo mio. L'uomo mio, per voi da Brunella. L'uomo mio, per voi.